La città di Agrigento ricorda il suo premio Nobel nel giorno della sua morte. L'ottantesimo, che è un anniversario tondo, serve a ridefinire in qualche misura e dovrà ridefinire il rapporto con Pirandello. La città non accetta l'etichetta di città pirandelliana, ma deve invece credere in un rapporto diverso. La nostra è la città di Luigi Pirandello e penso che il centocinquantesimo, dalla nascita che ricorre il prossimo anno, sia un'occasione per non solo festeggiare degnamente il Nobel che ha squinternato il teatro moderno e ha cambiato anche un po' il corso della letteratura italiana, ma credo che serva in una ridefinizione che invece proietti la città verso nuovi percorsi culturali e quindi anche di riverbero economico. Dico in diverse occasioni, Salisburgo vive di Mozart, Agrigento può vivere di Pirandello? No, ma certamente Pirandello può contribuire al suo destino culturale ed economico e quando dico ridefinire il rapporto a questo intendo sostanzialmente riferirmi. C'è già qualcosa in cantiere per i festeggiamenti del prossimo anno? Si insedia dal 15 di gennaio il comitato d'onore per i festeggiamenti che vedrà dentro certamente Andrea Camilleri che presiderà questo comitato, Massimo Brai della Treccani e altre due figure di altissimo profilo che ufficializzeremo nella prima decada del prossimo mese di gennaio dell'anno 21 e dentro cui ci saranno una serie di iniziative poi concrete che si svilupperanno lungo l'asse Agrigento Palermo-Roma a celebrare degnamente questo figlio nobile della città. Il liceo Leonardo è un'occasione dell'anniversario della morte di Pirandello sul posto per commemorare il premio Nobel ma anche per fare una lezione di storia e letteratura? Sì, da quando si è insediato questo dirigente, la dottoressa Ierna, noi abbiamo addirittura coniato un marchio, un logo che i ragazzi vedono ogni mattina nella nostra hall dell'istituto che è intitolato, oltre che col disegno, territorio, ambiente, passato e presente, quindi ha voluto rimarcare il nuovo dirigente, il rapporto, cinque anni fa, il rapporto strettissimo che ci deve essere fra una scuola e l'identità che i ragazzi e gli alunni devono avere, cioè conoscere il proprio territorio e così sono stati fatti dal punto di vista formale numerosi i protocolli di intesa, ma non sono rimasti solo carta scritta, tra cui per esempio la biblioteca Museo Luigi Pirandello che poco fa era presente e che gestisce questi luoghi al nome della regione, ma non sono rimasti solo carta scritta perché invece si sono fatti numerosi studi, numerose attività e qui abbiamo addirittura stamattina presente uno dei registi che con noi lavora come esperto, in questi anni ha lavorato tantissimo per il liceo scientifico per condurre i ragazzi che aspirano al mondo del teatro a dedicarsi a questa importantissima nostra risorsa che con Pirandello, premio nobile, nutro dirlo, ha trovato veramente un grande momento di cultura e che noi dobbiamo trasmettere ai nostri giovani.